Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo appuntamento sempre sulla serie di Batman Arkham Asylum. C'eravamo lasciati nell'episodio precedente in cui avevamo battuto Harley Quinn e ci aveva dato, oddio ci aveva dato è una parola grossa, ci eravamo presi le sue impronte digitali e abbiamo scoperto che la prossima strada da seguire è quella di andare nei giardini botanici dove sicuramente troveremo Harley Quinn, e scusate Harley Quinn e Poison Ivy per andare ovviamente a combattere contro di lei e sbloccare ovviamente altri gadget sempre utili a Batman. Intanto io qua mi sto facendo un giro per ovviamente prendere alcuni dei trofei o... Ok, qua non credo che ci siano altre cose. Ah no, infatti, no no no, invece ci sono. Allora, devo andare a sbloccare il numero 5, che sicuramente ci sarà qualcosa dentro. Ok. Ci sarà qualche, infatti, un altro trofeo. E quindi possiamo andare a uscire e andare direttamente a prendere dai jedi botanici. Mentre siamo qua, non si finisce mai ragazzi. Perché ovviamente c'è la chiusa per spalle, come vedete. Ma noi ovviamente abbiamo lì, il zitto. Ok. Possiamo andare a fare il giro, chiamiamolo il giro. E uscire direttamente da qua. E messere sopra, infatti. Cosa? Come hai fatto a uscire di lì? Ok. Allora. Allora, io adesso devo andare a uscire direttamente da tutto il... Questo edificio. Ci vediamo direttamente fuori. Allora ragazzi, siamo finalmente fuori. Pertanto, ovviamente, sono trovato anche i fatti fuori dalla struttura. Spero di averli tolti tutti, perché mi danno un fastidio in mezzo a questi, di vedervi che non sono uno dei miei nemici che adoro di più, diciamo. Allora, nel mentre io vorrei andare a sbloccare un altro... Eccolo, infatti, un altro enigma che era qua. Ok. Successivamente, quando avremo l'appletto, potremmo anche sbloccare un'altra stanza che era dietro di me adesso. Adesso non c'era più. Ok, quindi dobbiamo andare nella parte centrale dell'isola. Quindi da questa parte. Per andare a entrare nei giardini. Dove ci sarà Poesonive, sicuramente. Ragazzi, eccoci qua. Sono entrato finalmente nei giardini. Posso sparcare tempo a cercare l'ambiente di produzione di Titan. Ok. Quindi dobbiamo cercare, rispostamente appunto, di Harley Quinn con le sue... Ok. Mentre blocchiamo alcuni trofei... Alcune inigme adesso, scusatemi. Quindi dobbiamo cercare i movimenti di Harley Quinn. Ok, da qua è molto semplice. Dobbiamo due cose. Ok. L'abbiamo tolti completamente dal mezzo. Ok. Quindi, apriamo questa porta. E andiamo avanti da questa parte. Mi ricordo che poi ci sarà una stanza. Eccola. Una stanza piena di alcuni nemici armati. Quindi noi dobbiamo intanto salire su un gargoglio. Vediamo quanti nemici ci sono. Ci sono sei nemici armati. Allora, il più semplice... Sono divisi in due livelli, come vedete. Il più semplice credo che sia questo, intanto, da togliere. Ci facciamo... Un cappolo silenzioso e mi preparo il gel esplosivo. Così lo mettiamo qua sopra. Non so quello sotto come non mi veda. Perché viene proprio davanti. Ok. Questo lo togliamo e ce lo provo sotto. Va bene. Perfetto. Adesso tutti andranno da lui. O almeno tutto. O almeno una buona parte. Perfetto. Facciamolo esplodere. E facciamo uno. Anche se ne togliamo uno va benissimo. Due. Va bene. E basta. Adesso scappiamo. Ok. Ne ho rimasto uno solo già. Che bello. Era più semplice di quanto... Di quanto mi aspettassi. Ok. Abbiamo tolti tutti. Te lo tolto tutti, gioco. Non c'è bisogno. 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 Un esercito di mostri? Eh. Me lo potresti anche mandare qualche mostro dei tuoi. Dai. Almeno mi dai un po' più di... Di competizione. Per favore. Questi sono troppo semplici da batterle. Allora. Mentre sono qua ragazzi. Io mi prendo sempre i miei classici trofei. Eccolo. Qua ce n'è un altro. Però mai la maggior parte li so. È che ogni volta... Sempre qualche cosa mi deve sfuggire. Allora. Questo non mi ricordo dove vada. No. Non dovevo andarci però. Va bene. Quindi dobbiamo salire e andare direttamente nella porta normale che c'era qua. Questa qua grande. Va bene. Non so... Non credo che dobbiamo trovare Poison Ivy direttamente adesso. No. Infatti no. No. Ancora no. Devi mettere fine a tutto questo. Prima che sia troppo tardi. Che cosa? Ma se sono tutti curiosi di vedere la mia prossima mossa. Lascialo andare. Subito. Davvero? Ok. Se lo dici tu, basta. Aiutatemi! No! Dovrai accelerare le cose, Batman. E' ovvio che ti bloccava la strada, dai. Devo togliere la corrente a questa stanza. La corrente, la corrente, dov'è, 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 dov'è? Quindi dobbiamo tornare da qua dietro, credo. Eccola. Qua c'è l'impianto elettrico. Ok, sì. Allora, devo montare nella stanza di prima, vabbè. Ok, vabbè. Ricordati, dove è? Qui c'è la targa. Come è troppo piccolo. Ok. Quindi, così via, da questa parte dovremmo trovare... Eccola qua. Sì, se qui c'è... Non posso... È qui! Quando togliamo quello là con... Un po' di lana... Oh no, c'è l'impianto elettrico che era... Uno dei più... Difficili da portare. Ok, sono ritornati tutti e due quando... Quando erano raggi. Un po' di lana... E' quello che sta facendo. Oh no! Mi parecima che vado un televisore in mano e me lo vado a ritorno. E' un po' di lana. facendo qui dentro? Quelli che non mi stavano pestando sono andati da quella parte ad armeggiare con le centraline elettriche. Non ho capito bene. A quanto pare Joker mi hanno messo questa centralina. Sarà più difficile di prima, ma è un rischio che devo correre. Va bene, non è un problema. Uno. Da quello che mi ricordo ce ne erano tre, infatti, come le luci che sono messe sopra. Due. Ci siamo. Ok, quindi possiamo direttamente andare ad attraversare tranquillamente adesso. Togliamo silenziale. Togliamo questo qua e ovviamente la strada che dobbiamo prendere è solo questo. Solo questo, perché possiamo andare solo da questa parte. Questa è un altro enigma, mentre ci siamo l'acchiappadopio, infatti. aspetta, aspetta, aspetta. Voglio vedere cosa c'è qua. Perfetto. Ok, quindi serve sempre il solito gel. Credo che qui siamo molto vicino di arrivare dove sia Poison Ivy. Spero. Ok, ragazzi, io direi che per questo episodio può essere tutto. Ci vediamo al prossimo appuntamento, sempre sulla serie di Batman Arkham Asylum.